grandissimo entusiasmo a san paolo di napoli per il live di nino d'angelo il famoso cantante parte europeo entusiasma e accende gli animi in un live 6.0 davvero straordinario la prima canzone che si intitula 21 e 30 per l'esca caschetto bionno davanti a ben 15 mila presenti dinanzi alla curva b del san paolo di questa città straordinaria che è per l'appunto napoli grandi gli stimoli concessi e avuti emozioni a mille piacere e fantastica sensazione di puro benessere per canzoni partenopee davvero grandi che sono state per così dire al centro dell'attenzione dei presenti e soprattutto sono state pienamente ascoltate gianni simbiori ha presentato il concerto dopo i video auguri di no baffi il famoso attore pugliese massimo ranieri peppino di capri cristiano raddio una voce straordinaria quella di nino d'angelo che scorre in modo vibrante nelle orecchie dei presenti 16.000 ricordo un'altra volta tante le canzoni proposte tra cui vi ricordo questi amori un repertorio davvero favoloso del grande nino d'angelo l'esca caschetto biondo che ha emozionato tutti grazie anche a Yama Iacori Piazzo e poi qualcun altro che ha urlato sempre tutte nino insomma tutti sono rimasti contenti da questa presenza indissolubile a napoli capoluogo della regione campania per per l'appunto un uomo grande magico e straordinario come lui che sa far divertire e sa far emozionare tutti grazie alla sua straordinaria voce una voce imperturbabile che ti sa entrare dentro e che soprattutto sa emozionarti bravo nino d'angelo ha incantato 16.000 presenti al tuo concerto live di napoli a san paolo incantando tutti e soprattutto portando in scena musica eccellente grazie a voi tutti per l'ascolto un saluto e a presto